la troia guarda se è vicido no, ma non c'è rientro tranquillo guarda se è vicino guarda se è vicino guarda se è vicino e di qua dove andiamo? e dopo o andiamo direttamente la andiamo là guarda se è vicino guarda se è vicino guarda sono vicino guarda resto guarda 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 Grazie a tutti.